I manetti vertici di autostrade. La Guardia di Finanza sta eseguendo una serie di misure cautelari nei confronti di ex vertici di alcuni degli attuali manager di autostrade per l'Italia. Secondo quanto si apprende sarebbero se le misure cautelari ai domiciliari sono l'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, il direttore delle operazioni Paolo Berti, Michele Donferri Mirella, Stefano Marigliani, Paolo Strazzullo e Massimo Migliani sono le persone che hanno subito misure interdittive. Le accuse ipotizzate sono attentato alla sicurezza dei trasporti e frode in pubbliche forniture. L'indagine è nata dall'inchiesta sul crollo del ponte Morandi, gli investigatori del primo gruppo delle fiamme gialle guidati dal colonnello Ivan Bixio hanno scoperto che gli ex vertici erano consapevoli che le barriere fossero difettose del potenziale pericolo per la sicurezza stradale con rischio cedimento nelle giornate. Grazie per la visione!